Il Duca di Bergamo Il Duca di Bergamo Il Duca di Bergamo Mentre la partita si decide sulla pedana, poco discosto dal fratello Vittorio, il presidente della Parioli, Bruno Mussolini, segue attentissimo le ultime battute che segnano una netta superiorità del milanese, il quale, benché avesse la mano destra lussata, demolisce il Belga e lo costringe all'abbandono all'inizio della nona ripresa. Il Duca di Bergamo Il Duca